Avevo pensato di fabbricarvi con le mie mani, proprio da me, un burattino di legno. Pinocchio, dai, di qualcosa. Babbo! Vegnatemi! Mi è nato un figlio! Così, da un giorno all'altro? Un giorno all'altro, da un minuto all'altro. Guarda, Pinocchio, guarda. Uno e due. Se fai come me, fra due o tre giorni, già puoi camminare da... Pinocchio! Un burattino come noi. Tu chi sei? Pinocchio. Ascolta! Lo seminiamo, nasce una piantina. Stragolma, di zecchini. Sono stato derubato! Perché che non è in prigione? Non è in prigione! Mamma! Che sta succedendo al naso? Ssss! No, non è in prigione! Adame, Messie! E guarda lì, il ciuchino Pinocchio! Aiuto! Paolo! Pinocchio! Perché sei grande? È un segreto. Io non voglio essere un burattino. Voglio diventare un bambino come tutti gli altri. Grazie a tutti! Adame, assittenvi! L'